Ciao a tutti ragazzi, buon appetito per questo nuovo video Ragazzi siamo su Clash Royale Cosa devo postare a finire di giocare con qualche amico online Ragazzi, noi siamo su Clash Royale Proprio ora Facciamo qualche battere verso questo Tra lo srotto e paule Sono con Marco Guarda te lo vediamo un po' Si, mi metti perciò, mi metti perciò bravole Bravole Non ho sbagliato Ops, ho sbagliato ragazzi Ho sbagliato, non si può sbagliare Ho sbagliato nego Dove si fa la torre, qui non si sbaglia Si fa la torre Scherzava oltremente ragazzi Andai difendi, non metti per il bravo Che cazzo vai Non sto mettendo tutta questa roba Per difendere, porca broia Ok 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 Non ci ha fatto un grandissimo danno rispetto a me Ce l'ha fatto rispetto a me Ok ok bravo 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 Colpisci 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 al tesoro E' proprio il bambino per cazzo Non cazzo So, allora La torre torre La torre torre Nia Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao.